Ciao, io sono il Salutatore e ti volevo chiedere un saluto a tutti i tuoi supporti e a quei fan che ti seguono. Allora, ciao a tutti. È la parte mia, è la parte di Lamberti. Grande Lamberti, io ti ringrazio e ho una sorpresa per te che ci tengo. La manina del Salutatore, questa è la manina del tuo Salutatore. Grazie Lamberti, ciao!